Benassi Lancia Lanotte Lelli Lenci Lozzi Matronola Poli Stelitano Tredicine Tutino Villa Vitrotti Il numero legale c'è Allora abbiamo il numero legale Quindi possiamo aprire La seduta Nomino quali scordatori Della seduta I consiglieri Benassi Carlos e Carlone I suddetti consigliere Sono pregati di non allontanarsi Sino previa comunicazione alla presidenza Grazie Allora Procediamo con Il primo punto L'ordine del giorno Che è L'interrogazione Ai sensi Dell'articolo 102 Presentata dal consigliere Matronola Prego Consigliere Tre minuti A chi c'è? A chi non c'è? Allora Posso ripartarti Prima la cosa? Allora Tre minuti Per la presentazione Dell'interrogazione Prego Ma anche meno Allora Buongiorno a tutti Innanzitutto Al popolo italiano All'assessore vicepresidente E basta Dunque L'interrogazione L'interrogazione E' soltanto questa E' una risposta E' una domanda Secca Con una risposta immediata E una replica Dentro questo municipio Stanno tagliando Degli alberi Non so 60 50 60 40 Tanti Tanti alberi Qualcuno E' stato anche abbattuto Allora io mi chiedo Siccome io non sapevo niente Nonostante facessi parte Di qualche commissione preposta O almeno Credo Che sia quella Quella dei lavori pubblici Credo che sia Quella preposta Al taglio Degli alberi Cioè all'appalto Volevo sapere In che tipo D'appalto E' stato fatto Cioè E' stato fatto Un affidamento diretto Chi è la cooperativa Alla quale E' stato affidato E' stato affidato L'appalto Se questa cooperativa Aveva i mezzi Per effettuare Detto lavoro Che è un lavoro Abbastanza importante E se Aveva Questi mezzi Innanzitutto Vogliamo sapere Il costo Il costo Dell'affidamento Sapere Se la cooperativa Non so Non credo Che si chiami In opera O opera In opera Se aveva Se aveva I mezzi Se aveva I mezzi Necessari Per effettuare Tale potatura E tale abbattimento E se Sono stati Supportati Da altri mezzi Da altri mezzi Che magari Faccio una cosa così Potrebbero essere Dell'amministrazione Comunale All'interno Di questo Municipio Tutto qua Non ho chiesto Niente Prezzo Importo Cioè importo Se la Se la Se la Ho detto Ripeto Se la cooperativa Aveva i mezzi Necessari Ovvero Camion Per portare Camion Per portare Il Consiglio La domanda Deve essere secca Una sola secca Ma io la sto ripetendo Una sola secca Chi ha portato Detti i lavori Ha capito L'articolo 102 La scuola Attento che te stanno Interrogare E giustamente Gli dico Come sta la situazione E dico Ma è possibile Che possa succedere Una cosa del genere Magari Magari Sono stati Potati Abbattuti Degli alberi E sono stati usati Di mezzi Il comune Potrebbe succedere Bisogna vedere Che cosa prevedeva L'affidamento Bisogna vedere Poi Chi è che ha fatto Detto affidamento Quali sono Quali sono Gli altri personaggi Che Questo a livello Di interrogazione Così Devo parlare Non è che stiamo A di niente Ma che fai Avvocato di Morgia Eh no Ti è passato Quello di ieri Fa pure quello di oggi Cioè Tu C'è un presidente Consigliere Madonna Per favore Consigliere Madonna Consigliere Madonna Poi stai fuori Da ogni dimensione Consigliere Madonna Mi ho tolto il microfono Consigliere E tu mi prendi Il rischio Consigliere Madonna Grazie Consigliere Grazie Diamo la possibilità All'assessore Di rispondere Tre minuti In tre minuti Sarà difficile Rispondere a tutte Le questioni poste Dalle segne No Non sono una Io Lo dico molto Sommessamente E con il rispetto Massimo Di questo consiglio Forse Dico No L'articolo 102 Non era Lo strumento Più dono Per Giustamente Fare chiarezza Su questo argomento Così come Su altri Che i consiglieri Il consiglio Vogliano Come dire Da parte Della giunta Del presidente Della giunta L'articolo 102 Conosciamo Noi caratteri politici E d'urgenza Mi pare che Non ci siano Però Io rispettando Al massimo Il consiglio E proprio Andando al di là Di quella Che è L'unico Come diciamo La domanda unica Relazione Il consiglio Tutto Rispetto Alla questione Riguardante Diciamo Il tema Posto Con Ci sono pure Delle note ufficiali Da parte degli uffici Quindi Ci mancherebbe Allora Il riferimento All'oggetto L'UoT Informa Che su richiesta Del direttore Apicale Dottor Gaetano Altamura Che ha condiviso Con L'aggiunta Per accrescere L'indirizzo Di accrescere La sicurezza Nei sedi Municipali E quindi Per rimuovere Le situazioni Di pericolo Varie All'interno Del patrimonio Che è diretta Responsabilità Dello stesso Si è Dato Mandato Agli uffici Di Valutare Qual era la situazione Delle portature Delle Delle alberature All'interno Di piazza Cinecittà La prima parte Dell'intervento Quello che Andava Da Orazio Pulvillo Dal lato Di via D'Orvillo Fino a Cinecittà E' stata eseguita In collaborazione Con l'ufficio Giardini Perché sapete bene Qual è la situazione Del verde Nella nostra città E le difficoltà Dell'ufficio Giardini Che non riesce A sopperire A tutte le richieste Però in quel momento C'era la possibilità Di un potatore Di un cestello E quindi Per quella parte Il contributo Da parte Dell'ufficio Giardini E' stato Messo a disposizione Per questo Intervento Per questo Intervento Cosa Consiglio Per cortesia Un operatore Di portatore Scusate Per cortesia Per cortesia Per cortesia E l'intervento Ha riguardato 22 alberature Di seconda forza E l'abbattimento Di tre essenze Con la stabilità Compromessa Due pini E un popolus Di cui due Erano pure tirantati Come ricorderete Sicuramente Perché tutti quanti Noi parcheggiamo Qui è terminato Il contributo Dell'ufficio Giardini Che come sapete Non riesce Minimamente A far Fronte A quelle che sono Le esigenze Del municipio Tenendo conto Anche che Purtroppo Come sappiamo bene Le vicende Poco edificanti Il 2 dicembre Dello scorso anno Hanno di fatto Bloccato La stragrande Maggioranza Degli appalti Del verde In questa città Perché lo dobbiamo sapere Sia sfalci dell'erba Che potature E quindi Questo mette Ancora di più In difficoltà Gli uffici Giardini Che già sono ridotti Ai minimi termini In quanto È personale Disponibile E tecnico E alle stesse Attrezzature Quindi La rimozione Della potatura E dell'essenza Abbattuta E più la pulizia Totale Dell'area verde In quanto Che dei viali È stata eseguita Dalla cooperativa Cantieri Sociali Con l'impiego Di camine E personale In quanto Il servizio Giardini Non ne dispone Si è attinto Questa è parte Di una delle sue Risposte Delle sue domande Caro consigliere Alla disponibilità Presente Con determinazione Dirigenziale 38-16 E 19-12 2014 Che riguardava L'impegno E con un contratto Del 13 febbraio 2015 Con inizio Dei servizi Del 23 febbraio Il secondo step Di lavori Cioè quello Che va Dall'entrata Di piazza Cinecittà Fino Alla Diciamo All'entrata Dell'anagrafico Per capirci È stata Eseguito A partire Dal 27 aprile Dalla cooperativa In opera In quanto È gestore Di un appalto Per il verde Che è già operante Nel municipio Principalmente In altre sedi E Questo appalto Questo impegno È di circa 47 mila euro È affidato Con determinazione Dirigenziale 39-42 Del 31-12 2014 Il contratto Stipulato All'inizio Di marzo È consegnato Il 23 marzo Alla stessa cooperativa Che porterà a termine La messa in sicurezza Della sede Di piazza Città 11 Rispetto alle alberature Perché come avete visto Ci sono altre Alberature alte Di prima forza Che debbano essere curate Io porto a conoscenza Del consiglio Ma già qualche altra volta Mi pare Di averlo Ascoltato Sia in commissione Che in Consiglio La questione La questione della sicurezza Delle sedi municipali Intesa come sicurezza Dei lavoratori Sicurezza dei cittadini E quindi che riguarda Gli impianti L'illuminazione La videosorveglianza È sicuramente un tema Su cui ci stiamo occupando E ci occuperemo Con le risorse a disposizione Voi avrete visto Che Proprio per cercare Di attenuare I disagi Che ci sono Oggettivamente Nell'allungamento Dell'orario Degli anagrafici Si è provveduto A un potenziamento Dell'illuminazione Su quel lato Fino Alla piazzetta Laddove c'è La sosta Per gli invaditi Cercheremo di potenziare L'illuminazione Anche nelle altre parti Diciamo Del municipio Con l'appalto Della manutenzione Di quest'anno E credo che Questo sia una cosa Richiesta E gradita a tutti I lavoratori Cittadini E consiglieri In primis Grazie Grazie a lei Assessore Consigliere Matrona Due minuti Per una brevissima Repre Allora L'articolo 102 Parla Urgenza O particolare Attualità politica Per me Questa è un'attualità L'attualità politica Perché Perché stava in corso Stava in corso È stato fatto Un appalto Lei adesso Mi ha nominato Che io non ho nominato I cantieri sociali Quindi la giudicazione L'appalto è stata Data ai cantieri sociali A me mi sembra invece A me Così ho capito Scusate Che i cantieri sociali Una parte è stata appaltata Ai cantieri sociali Una parte è stata appaltata Da in opera La parte Di dietro E il servizio Giardini è entrato Di supporto Allora Secondo me Va approfondito un attimo Questo affidamento diretto Perché se lei mi dice Cantieri sociali In opera E servizio Giardini La cosa comincia a essere Un po' preoccupante Perché Perché se lei mi dice Che caro assessore Che è stato tagliato La parte destra Io le dico Che hanno tagliato Pure la parte sinistra Le stesse cooperative Quindi c'è qualcosa Che non mi quadra Io mi auguro Che sia registrato Quello che è Perché dopo Chiederemo pure La registrazione Sicuramente Tanto andrà Andrà Se sta registrando Quindi Però non mi sembra Non mi sembra Che la risposta Sia stata chiara Ha cercato Anche se è entrato In sua difesa Il consigliere Poli Perché giustamente Giustamente Deve difendere La sua parte politica Io le posso dire Caro assessore Che Questa Questa interrogazione È scaturita Come ha detto lei Quali sono i problemi Sono stati Quello che è successo Da dicembre Da dicembre Dal 2 dicembre E beh Caro assessore Io ho avuto Una risposta Da una funzionaria Qua dentro Quando sono andata A chiederle Mi dica Signora Per quale motivo Per quale motivo Non si taglia L'erba del parco Signora C'ha 20 secondi Non si taglia L'erba del parco E mi viene a dire La stessa cosa Che ha detto lei Lei l'ha detto In un'altra forma Lei mi ha detto Lo chieda Lo chieda Lo chieda Al signor Turella Cioè Se questa è una risposta Da dare Lei mi dice Che gli apparti Sono stati bloccati Per quello che è successo Il 2 dicembre E credo che sì Cioè Cioè ma l'ho capito Ma che mi mette Le domande in bocca Mi scusi Cioè mi dica Quello che tu risponde Gli è 12 che mi ha telefonato 12 che mi ha telefonato Consigliere Ma trondola Per Consigliere La garanzia Chiederò Di accedere agli atti Perché quello che ha detto lei Non mi sembra veritiero Perché lei ha scritto I bei appunti Sono bellissimi Grazie Ringrazio pure Consigliere Madrona Per cortesia Allora L'hai tolta la parola Consigliere Madrona Passiamo D'accordo Grazie Passiamo al secondo punto Scusate Per cortesia Consigliere Coglie Per favore Per cortesia Per cortesia Per cortesia Per cortesia Consigliere Madrona Il gioco è chiuso È finita Io ho chiesto Quanto è costato l'appalto Non è L'appalto Ha detto Non è soddisfatto La risposta D'accordo Grazie Consigliere Madrona Per cortesia Per cortesia Allora Passiamo Torniamo per favore Passiamo al secondo punto Presidente Consigliere Tu dirmi Hai chiesto la parola Prego Grazie Presidente Assessore Volevo ricordare Al consiglio Che oggi È 12 maggio In cui siamo riuniti E che ricorre Il diciottesimo Anniversario Dell'assassinio Di Giorgiana Masi E Questo avveniva In un contesto In cui Sappiamo La violenza Era qualcosa Di Di ordinario Ma in cui C'erano molti Aspetti In comune Con Con la vita Politica Che viviamo Oggi Ad esempio Ancora Attendiamo Gli identificativi Sulle Diciamo Sulle divise Per le forze Dell'ordine E Io le chiederei Se è possibile Di Di ricordare Quel momento Oggi Con Un momento Nostro Di silenzio E Vorrei solo Ricordare Che Giorgiana Masi Manifestava Da Non violenta E Fu Contro Per la libertà Di espressione Contro La proibizione Delle manifestazioni Contro La proibizione Dei sit-in Che in quel periodo Era stata Diciamo Imposta Da un Regime Poliziesco Che Molti di noi Ricordano Grazie Consigliere Tutino Allora Usate Raccolgo L'invito Del Consigliere Tutino E Diamo L'Aula A fare Un momento Di Riflessione Soprano Grazie Soprano 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 credo che sia stata una cosa importante certo, è importantissima importantissima allora, importantissima sicuramente ha avuto degli effetti per il nostro paese tragici politicamente e anche diciamo sotto l'aspetto dell'evoluzione politica del nostro paese, quindi credo che il minuto di silenzio che abbiamo fatto vale anche per il Presidente Aldo Moro allora secondo punto dell'ordine del giorno proposta di deliberazione renta d'oggetto e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio Consigliere Valdacca la presenta lei? Prego Grazie Presidente Buongiorno Assessore e colleghi dunque abbiamo dato parere in commissione bilancio per una un riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio per una somma abbastanza piccola cioè si parla di 1500 euro per un riconoscimento in concorso di colpa per un incidente accaduto ad una moto parcheggiata su marciapiede per cui l'asfalto ha ceduto e la moto è caduta quindi il proprietario della moto parliamo di un episodio avvenuto nel 2009 nel settembre del 2009 per cui c'è una sentenza del giudice di pace che ha riconosciuto il concorso di colpa a Roma Capitale appunto per il cedimento del manto dell'asfalto del marciapiede credo sia opportuno sottolineare che questo debito appunto di l'importo relativo è già stato messo nella voce di bilancio del 2014 quindi è già coperto e ci sono pareri di regolarità della nostra UOT del municipio della ragioneria e del direttore del municipio insomma è come altre volte abbiamo avuto sia in commissione che in consiglio diciamo un atto formale insomma non credo che ci saranno prese di posizioni diciamo politiche o esatto o obiezioni a questo io continuo a pensare insomma che sia un po' non so quanto opportuno che commissione e consiglio si debbano esprimere su questi atti su cui ci sono i pareri di regolarità degli organismi amministrativi e del tribunale insomma oltretutto su cifre abbastanza diciamo molto limitate ma questo è quanto la commissione ovviamente ha dato parere favorevole alla delibera grazie grazie a lei apriamo la discussione su questo debito fuori bilancio consigliere Caccamo buongiorno presidente vicepresidente consiglieri e uffici è vero che qui trattiamo di una cifra abbastanza irrisoria però il criterio che deve ispirare gli amministratori pubblici gli organi istituzionali dovrebbe essere quello del buon padre di famiglia e quindi qualunque risparmio possibile non deve essere trascurato specialmente di questi tempi in commissione quando abbiamo letto quest'atto io ho avuto delle perplessità perché abbiamo letto che l'avvocatura del comune non si è presentata a difendere il comune in questa causa e un altro punto quindi di questo mi pongo la domanda perché non si è presentata l'avvocatura a difendere il comune in una causa primo seconda domanda perplessità la moto era parcheggiata su un marciapiede che ha ceduto ma mi risulta che le moto sui marciapiedi non possano parcheggiare tant'è che se non sbaglio se non ricordo male il proprietario della moto è stato anche sanzionato per questa situazione è vero che l'OREF l'OREF si se non dico male l'OREF consiglia in base ai principi stabiliti dalla Corte dei Conti che occorre pagare subito per evitare ulteriore gravi dispesa quindi io faccio mio e condivido questo principio ma a tutto questo corollario diciamo che la cosa che mi sostiene in commissione io mi sono astenuta dal dare il voto in questa seduta voterò a favore perché ho letto nell'atto che viene sottoposto al nostro esame che l'avvocatura del comune si è ha proposto il ricorso in appello e sono sicura che in appello questa causa verrà vinta dal comune e quindi adesso noi paghiamo e poi recupereremo le somme grazie grazie consigliere Cacco ma altri interventi consigliere Coglia prego abbiamo esaminato in commissione bilancio con curiosità questo evento e al di là dell'evento particolare diciamo le riflessioni possono essere di vario tipo una riflessione meramente economica può essere per una causa di 2500 euro probabilmente al comune non conviene neanche mandare l'avvocato del comune e come sappiamo ci sono 20 avvocati del comune che prendono più di 200.000 euro all'anno le spese legali per un appello probabilmente sono superiori all'impresa insomma poi se ne fa un discorso di rischio o di come dire di giustizia se vogliamo considerarla in questi termini è un altro discorso invece io il secondo livello che approfondirei è quello del livello di rischio perché penso che l'assessore Morgia ne sia consapevole non so quanto la presidente Fantino il rischio che queste cause si moltiplichino esponenzialmente è altissimo perché non c'è più manutenzione stradale perché sul nostro municipio insistono i lavori dell'Italgas che stanno mettendo in grave rischio e in un'interrogazione che avevo fatto l'avevo sottolineato e lo risottolineo perché ogni giorno ci sono cantieri aperti in vari punti del municipio non in sicurezza senza la cartellonistica necessaria e ho visto personalmente almeno un incidente causato da questi diciamo cantieri abusivi non so come definirli o selvaggi e quindi attenzione attenzione perché tutto ciò che non si fa per la sicurezza o la mancato controllo a prescindere dagli alibi che uno può dare o poco personale o non ho fondi o altro poi hanno delle implicazioni civili e penali e tutti noi potremmo esserne come dire responsabili quindi la mia indicazione è cogliamo questa indicazione come un esempio un campanello d'allarme perché non può essere un alibi non fare i lavori perché non ci sono i soldi perché le responsabilità sono le nostre e qualcuno se succede qualcosa ce ne renderà conto grazie 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 consigliere Coglia altri interventi consigliere Calozzi si può ricordare anche il problema dei marciapiedi in via Furio Camillo che è vero che la ditta che è fallita è fallita però se il comune non acquisirà mai o non interverrà mai anche là tante signore soprattutto le anziane o chi va in giro con i passeggini rischia di cadere ci sono signore che si sono rotte parti del corpo e quindi prima o poi in causa verrà chiamato anche il comune come responsabile in solito quindi prima di arrivare a questi punti dove forse ha ragione la consigliera Caccamo che uno che parcheggia sul marciapiede prima lo multi e poi non lo paghi però probabilmente va degli avvocati più bravi dei nostri in ogni caso il comune si dovrebbe fare un esame di coscienza su tutti i pericoli che ci sono anche all'interno delle scuole non manutenzionando come dovrebbe gli edifici scolastici anche là i nostri figli rischiano e poi che facciamo andiamo in causa e invece di prevenire curiamo? grazie grazie a lei consigliera Lenci prego grazie presidente buongiorno a tutti non faccio parte della commissione mi lancio quindi non ho potuto approfondire questa situazione quindi dalle cose che sono emerse qui presumo che invece non sia giusto votare a favore questa cosa perché poi bisogna sempre ricorrere mi dispiace che il comune non si sia presentato in questa causa andrei prima a vedere le responsabilità di questa persona che ha parcheggiato in un posto dove non poteva parcheggiare quindi sicuramente mi asserrò da questa votazione grazie grazie altri interventi consigliera Daca lei ha diritto di replica alla fine della discussione allora ci sono altri interventi se non ci sono consigliera Daca prego grazie presidente ma insomma francamente non ho grossi interessi anche questa delibera insomma pazzi o meno questo tanto per chiarire però come presidente della commissione credo sia giusto ed opportuno che io insomma chiarisca avendo condotto i lavori in commissione alcune questioni cioè il mio intervento precedente di presentazione dell'atto non era certo nel merito se sia giusta o meno la sentenza del giudice di pace però dobbiamo ricordarci che c'è una sentenza di un giudice di pace cioè in questo momento c'è una sentenza legittima che riconosce una parte di colpa al comune di Roma e quindi credo che come organo istituzionale sia anche giusto da parte nostra riconoscere l'autonomia e la legittimità nel merito e nelle proprie competenze di altri organi istituzionali insomma comunali e nazionali detto questo ovviamente non voglio minimamente criticare altre posizioni legittime di altri consiglieri però ecco nel quadro d'insieme per quanto compete tutta la parte appunto giudiziaria e amministrativa e tecnica ci sono tutti pareri positivi e favorevoli sul riconoscimento della legittimità è vero che il proprietario della moto è stato multato perché la moto sostava sul marciapiede e proprio perché sono stato sul marciapiede gli è stato riconosciuto solo la metà di quanto richiedeva quindi con un concorso di colpa però ricordiamoci anche se c'è una macchina parcheggiata in doppia fila e tu con un furgone gli vai addosso e la distruggi a lui gli fanno la multa perché stava in doppia fila però non è che allora possiamo distruggere i beni altrui perché erano parcheggiati male cioè a te ti fanno la multa e paghi i danni da aver distrutto un mezzo che era parcheggiato dove non doveva stare grazie grazie a lei allora passiamo a dichiarazione di voto ci sono le dichiarazioni di voto no passiamo alla votazione allora chi è favorevole chi è contrario nessuno chi si astiene 11 voti a favore nessun contrario passiamo al terzo punto l'ordine del giorno proposta di risoluzione avente ad oggetto punti di raccolta differenziata di materiali destinati allo smaltimento al riciclo e al riuso chi è che presenta l'atto il presidente della commissione Marco Poli grazie presidente colleghi consiglieri l'atto che oggi è alla votazione del consiglio è stato esaminato con parere favorevole dalla prima commissione permanente su iniziativa del gruppo consigliare della lista civica Marino farò un brevissimo una brevissima presentazione per consentire ai colleghi di farla in maniera più esattiva perché ripeto sono loro i presentatori voglio solo far notare evidenziare che la risoluzione è in linea con la precedente che abbiamo votato il consiglio per ciò che attiene la richiesta di avviata di raccolta differenziata nel nostro municipio cosa che poi non si è ancora verificata ma è uno degli atti delle buone prassi che è opportuno che ogni municipio adotti e che stanno dando dei buonissimi risultati per ciò che attiene gli aspetti convenzionali che ci sono tra privati quindi tra i centri grandi centri commerciali e grandi realtà rispetto alle società che hanno il compito di raccogliere i materiali pregiati da riciclare quindi alluminio plastica eccetera per cui abbiamo anche audito in commissione uno dei rappresentanti di queste società che ci ha spiegato che ripeto l'aspetto è tra privati quindi un aspetto convenzionale dove il comune di Roma non ha fino adesso ritenuto di entrare e la commissione ha ritenuto lodevole comunque sottoporre all'attenzione dell'assemblea capitolina del sindaco di promuovere delle intese tra Roma Capitale e municipi affinché queste esperienze positive possano replicarsi su tutto il territorio mercati scuole eccetera è chiaro che poi sarà necessaria poi un'interlocuzione ed un lavoro con le commissioni competenti questo è un primo atto diciamo di sensibilizzazione che non è esaustivo ovviamente per ciò che attiene l'attuazione pratica di questo strumento grazie grazie a lei apriamo la discussione consigliera Cacamo prego io ringrazio i consiglieri promotori di questa risoluzione la trovo molto interessante molto utile però penso che forse avremmo dovuto coinvolgere in questo discorso in questa iniziativa i responsabili dei mercati in una commissione commercio magari perché è vero che sono direttamente coinvolti questi punti di raccolta verranno fatti vicino ai mercati rionali non solo ma qui si parla di crediti di acquisto per cui sono coinvolti direttamente in questa operazione sarebbe stato quindi utile secondo me chiamarli condividere insieme a loro questa iniziativa dato che poi loro saranno gli attori principali di questa iniziativa grazie grazie a lei altro intervente ci sono altri interventi consigliere Tutino prego grazie presidente allora la l'idea di risoluzione in questo ambito nasce da ciò che tutti i giorni osserviamo per le strade della città la raccolta differenziata pur se all'interno di questa amministrazione sta raggiungendo dei picchi percentuali importanti non toglie assolutamente il problema dei rifiuti che ingombrano le strade sia per il malcostume di molti cittadini sia per le sacche di inefficienza importantissime che ancora la municipalizzata diciamo si porta sulle spalle e a questo abbiamo voluto porre rimedio attraverso delle buone pratiche che già altrove e già in alcuni municipi stanno trovando luogo ovvero delle pratiche che anzitutto diciamo mettano in campo delle premialità per i cittadini che che vanno a differenziare o in questo caso non soltanto a differenziare ma in certo senso proprio a restituire il vuoto che hanno adoperato si ricorderà che in questa stessa sede abbiamo posto la questione anche in termini più estremi o come mi piace dire più radicali e quando chiedemmo e ottenemmo il consenso del consiglio sulla proposta che laddove ci siano o ci fossero gravi inadempienze della municipalizzata ama si potesse sospendere la riscossione in tutto in parte la riscossione della tassa già ponemmo quindi in questi termini di premialità per il cittadino la necessità di un efficientamento del sistema di raccolta e di smaltimento oggi la poniamo dando direttamente al cittadino la responsabilità di andare a prendersi la sua moneta e ancora più ci piace in quanto non si tratta di moneta prodotta dalle banche ma da moneta diciamo di crediti erogati crediti al portatore che non si svalutano in mano al portatore come avviene alla moneta prodotta dalle banche e con questi crediti il portatore il diciamo no ok ok con quanti minuti ho presidente non ho no il microfono non ho quindi intendiamo promuovere nei cittadini il comportamento tali per cui non si lasciano in giro le bottiglie di birra o le bottiglie di vetro usate le bottiglie di plastica usate ma andandole a conferire si riceva un buono di nuovo spendibile in questa maniera tendenzialmente il fenomeno scompare questo è un aspetto importante d'altra parte si spinge l'ama verso un efficientamento della propria raccolta ponendola anche in diciamo così concorrenza con altri soggetti che possono partecipare alla raccolta e allo smaltimento quindi chiediamo al comune che avvenga questo in particolare che avvenga e qui vengo arrivo a quanto rilevato dal sì passo magari ecco questo sembra che funziona quindi chiediamo che diciamo questo avvenga in particolare all'interno dei mercati rionali e nelle scuole perché chiediamo questo lo chiediamo in coerenza con quanto richiesto anche in quest'aula dai nostri colleghi da molti nostri colleghi che hanno in varie occasioni diciamo così rilevato il rischio di di chiusura di vari mercati rionali in questa maniera diciamo ponendovi all'interno delle delle attrattività chiaramente perché si poteva mettere adesso questo accade tendenzialmente soltanto nei centri commerciali che già possono farlo e stenderlo anche ad esempio a scuole o a mercati rionali crea un'attrattività maggiore d'altra parte però questo non è che implicava e qui vorrei rilevarlo una diciamo una coinvolgimento dei commercianti particolare per il semplice fatto che il comune stabilisce dove mettere dei punti di raccolta non è che si tratta come stabilire dove mettere le fontanelle abbiamo detto le mettiamo lì in maniera tale da attrarre le fontanelle a pagamento in maniera tale da attrarre clientela in quella zona se questo poteva essere fatto meglio diciamo da una parte potremmo anche dire ce ne scusiamo dall'altra però in commissione non c'eravamo solo noi e quindi diciamo altri altri elementi altri soggetti politici potevano rilevare questo insomma nessun problema anche a fare tutto il giro delle commissioni che però in questo caso sarebbero diventate tre sarebbe diventato un consiglio di fatto quindi probabilmente non era neanche praticabile però da parte nostra assolutamente nulla in contrario quindi riassumendo la questione questi compattatori dovrebbero ricevere bottigliette o altri oggetti da riciclare che erogando in cambio dei buoni di acquisto e questo dovrebbe costringere l'AMA ad efficientare la propria raccolta e dall'altra parte può monetizzare ai cittadini le buone pratiche da loro effettuate grazie 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 a lei altro intervento consigliera Lenci prego grazie presidente quello la proposta di risoluzione che andiamo a votare oggi è sicuramente lodevole anche se siamo costretti a continuare a fare degli atti quando se la prima risoluzione per quanto riguardava l'estensione della raccolta differenziata avesse avuto un seguito oggi abbiamo un territorio tanto ci viviamo tutti quindi lo vediamo in una situazione di degrado totale ci sono varie mi dispiace che non c'è la presidente Fantino che ha la delega all'AMA perché vorrei sapere come intende affrontare il problema nel nostro territorio abbiamo due unità di crisi che dovrebbero andare a raccogliere gli rifiuti ingombranti io al momento non ne vedo ancora in giro quindi vorrei sapere perché non passano più secondo c'è anche una figura dell'AMA che in alcuni municipi sta già lavorando che sono gli accertatori AMA cioè sono quelli che fanno delle multe a chi butta in maniera non consona esistono in qualche municipio li sta utilizzando quindi vorrei sapere come mai noi che abbiamo come penso ormai tutto il municipio abbandonano di tutto nei cassonetti frigoriferi materassi insomma facciamo lo sgombro cantine quindi mi dispiace io la voto questa proposta perché comunque è un passo in più però se noi avessimo avuto la forza di far rendere attuativi cioè gli atti che noi facciamo non hanno mai un seguito abbiamo richiesto siamo un municipio così grande abbiamo richiesto la raccolta differenziata l'estensione della raccolta differenziata del nostro territorio particolare perché i territori limitrofi lo fanno non capisco perché siamo ancora qui a dover fare atti su atti e su atti quindi io mi voglio augurare che si faccia una commissione nella quale intervenga anche la Presidente Fantino perché alla delega all'AMA e ci venga a dire come vogliamo affrontare il problema e di vedere perché queste unità di crisi non passano più oppure passano e non raccolgono di cominciare a vedere chi lavora e chi no e di cacciare chi non lavora e mantenere chi lavora e pagare chi lavora grazie altro intervento consigliera Lozzi prego sì mi collego a quanto detto dalla consigliera Lenci dovrebbe essere stata approvata mi sembra a marzo la delibera in cui si inserisce il settimo municipio nel progetto di raccolta differenziata che dovrebbe partire entro quest'anno noi quando votammo quella famosa risoluzione avevamo chiesto una cosa all'AMA cioè che partisse almeno l'informativa qualche mese prima dell'abbio della differenziata per evitare che diventasse un caos così come caos è stato in quasi tutti i municipi ad oggi non si vede nulla neanche le informative anzi come ricordavo la consigliera Lenci il degrado va aumentando sempre di più e non si sa neanche a chi fare riferimento perché come tante volte chiesto in questo municipio non abbiamo neanche un responsabile del decoro urbano il decoro che sta toccando i minimi storici perché oltre ad essere invasi dalla mondezza da materiale che non andrebbe neanche conferito nei cassonetti da scritte abbiamo l'erba alta ovunque i marciapiedi le piste ciclabili qualsiasi passaggio pedonale è invasa dall'erba alta questo perché perché i bandi non ci sono a livello comunale perché non hanno assegnato fondi o personale all'ufficio Giardini un ufficio Giardini che risponde che non ha neanche il decespugliatore quindi benvengano le macchinette di raccolta noi siamo perfettamente d'accordo ma sono semplicemente degli strumenti che dovrebbero essere collegati ad un sistema più ampio e funzionale di tutela del decoro sul territorio di metodi di raccolta differenziata che ad oggi Roma non riesce a portare avanti in maniera corretta e coerente Grazie Consigliere Lozzi Consigliere Ciancio prego Grazie Presidente Consiglieri a prescindere da quello che condivido che ha detto la Consigliera Stella Caccamo sul fatto che si poteva approfondire nelle commissioni però la teoria delle tre R condivisibili quindi benvengano tutte le procedure per smaltire meglio anche i piccoli come dire rifiuti che produciamo nelle scuole che produciamo nei mercati la perplessità è proprio una a che ci rivolgiamo per questi compattatori per l'installazione io avrei gradito senz'altro che l'AMA provvedesse ad attuare la delibera regionale che dal 2015 prevedeva la raccolta differenziata anzi addirittura nella risoluzione approvata mi sembra era a dicembre era a dicembre quando l'abbiamo approvata avevamo chiesto io avevo chiesto di ampliare il numero degli utenti serviti da 2000 ex nono municipio utenti serviti lo ripeto 2000 contro i 75.000 dell'ex decimo non è una gara di numeri io vorrei che si facesse dappertutto naturalmente ma 2000 utenti corrispondono a un palazzo nell'ex nono quindi vuol dire che diventa veramente un problema quindi io convintissimo su questa teoria che rimarco e ringrazio la lista civica di aver presentato elaborato questo atto sicuramente non avendo partecipato mi sarebbe piaciuto promuovere quali sono questi criteri di acquisto potrebbero essere libri di testo potrebbero essere dvd per i ragazzi delle scuole ecco attraverso questo procedimento si può attuare un meccanismo virtuoso però la certezza del meccanismo virtuoso in questo caso avviene forse a discapito di un ente quale lama perché vorrei sapere questi compattatori da chi sono acquistati da chi li porta in loco dove dovranno essere utilizzati ecco se è la CEA a titolo gratuito oppure quale procedura economica si attiverà sul principio quindi della risoluzione per carità la teoria è validissima potremmo fare sempre meglio in ogni ambito e quindi con questi dubbi ma per l'alto senso dell'impegno che dovremmo promuovere in questo settore voteremo la risoluzione proposta dalla lista civica grazie grazie a lei consigliere Matrondo lo prego allora mi sembra di rivivere la stessa cosa che abbiamo vissuto quando abbiamo fatto quella risoluzione che parlava dello sconto per la se l'ama non effettuava il servizio e sarebbe stata applicata una multa che poi sarebbe stata divisa tra gli utenti gli utenti che erano stati penalizzati per la raccorta dei rifiuti o per il mancato servizio infatti qua leggo utilizzano i monete complementari scambiabili esclusivamente sulla filiera curta io mi ricordo che al mercato tuscolano terzo circa due anni fa circa prima della fine di questa consigliatura chiedemmo un compattatore alla dama compattatore perché la situazione lì da fuori era diventata insostenibile ah ma ha detto che non è possibile e agli occhi di tutti come ha detto la consigliera Lozzi e la consigliera Lenci quello che sta succedendo nei cassoni blu nei cassoni bianchi senza parlare di quelli verdi che ormai credo che la situazione è diventata insostenibile fare questo portare questi compattatori all'interno delle scuole da quello che vedo scuole mercati roba varia credo che spostiamo il problema dalle strade all'interno delle scuole perché se poi non abbiamo chi lo raccoglie perché qua dice di attivarsi intese tra Ama e Roma Capitale io credo che Ama in questo momento sia diventata inaffidabile perché guardate quello che sta succedendo vedete su su internet su facebook su quello che vi pare la situazione della raccolta è differenziata e organica del nostro municipio ma credo in tutta Roma quindi ripeto spostare creare questa raccolta che potrebbe essere pure buona come se faceva una volta che tu riportavi 40 anni fa forse 50 anni fa riportavi la bottiglia di vetro al lattaio ti dava non so se erano 5 lire o roba varia di sconto sul latte oppure addirittura ti davai 5 lire o 10 lire adesso non mi ricordo però diciamo che stavamo su quella linea il latte costava 90 lire all'epoca 50 anni fa adesso e ti davano 5 quella potrebbe essere una cosa buona come potrebbe essere una cosa buona il riporto addirittura anziché portare i compattatori che diventerebbe una discaria quindi nessuno sa poi quello che succede sarebbe stato più opportuno o più logico dire facciamo il tutto convenzioniamoci con i supermercati che sono quelli che vendono l'acqua minerale sono quelli che vendono la plastica sono quelli che se la vendono usatelo anche riprende non è che io devo creare degli appalti Coama comune di Roma per agevolare quelli che vendono l'acqua che vendono le bottiglie che vendono le lattine che vendono le bottiglie di vetro no se loro vendono loro raccolgono pertanto sarebbe stato più logico creare una filiera di raccolta all'interno dei supermercati e credo che sia una cosa proprio più logica e lì e lì sarebbe stato anche più giusto più giusto dicere riportare uno sconto magari uno sconto minimo sulla riconsegna della bottiglia voglio soffrire dello sconto all'interno dello stesso supermercato e lì attivare un certo sistema quindi la gente sarebbe stato un bene e per il supermercato che tu gli porti la bottiglia però ti fa lo sconto ma contestualmente tu acquisti all'interno del mercato ma metterlo così metterlo in questa maniera dove ho letto all'interno delle scuole o roba varia non mi sembra una strada una strada molto percorribile ripeto percorribile perché perché secondo me spostiamo il problema della raccorta differenziata all'interno delle scuole dei mercati o di tutto ciò che noi riteniamo giusto è una cosa che manca una cosa che manca intesa tra Ama e Roma Capitale ma perché Roma Capitale e io dico questo municipio questo municipio non si rende conto a tutt'oggi di quello che sta vivendo il nostro municipio per quanto riguarda e la raccorta differenziata e plastiche e carta e lattine e i rifiuti organici ragazzi ma avete visto le nostre strade che sono in base se voi chiamate Ama Ama adesso non prende più neanche le richieste dei consiglieri bisogna passare per il numero verde perché perché purtroppo non riesce più ieri sfuggiva nuovamente la situazione di mano e quindi non vediamo un atto in questo consiglio ma credo che ci sarà al prossimo consiglio un atto un atto dove sollecitiamo la nostra presidenta di intervenire su Ama per sapere quello che è successo la nostra commissione urbanistica che non è titolata perché Ama dipende direttamente dal presidente che sta facendo perché la nostra presidente non scende alla torre d'avorio e ci dice ragazzi ho chiamato Ama ho chiamato tutti ma siamo ancora in situazione purtroppo non riusciamo a capire quello che è successo perché nessuno di voi come noi da quest'altra parte non sappiamo effettivamente che cosa sta succedendo una mattina ci siamo svegliati come diceva la canzione e abbiamo trovato non l'invasore abbiamo trovato i secchioni pieni ma dico e camminiamo passiamo davanti davanti a questi secchioni stracolmi la cosa è inverosine io mi vergogno da di sono consigliere perché purtroppo la gente non guarda più destra e sinistra guarda il tuo ruolo istituzionale che cosa sta facendo ha voglia che gli diciamo ma noi come Ama non c'entriamo niente e voi che state a fare perché ve pagamo perché cosa per fare consiglieri o per magari per di facciamo l'anniversario dei pazia perché è morta i pazia o facciamo perché dobbiamo fare la sala allende dobbiamo chiamare questa sala allende per cose mini cose stupide o raccorta differenziata e ripeto in ogni consiglio che faccio l'intervento lo dico sempre vi ricordate raccorta differenziata dei rifiuti perché tutta quella storia la pulizia dei cigli stradali che io con te stai dicendo ma scusate dentro la risoluzione mettete la pulizia dei cigli dei cigli stradali ma perché è raccorta differenziata però più ce ne mettiamo destronzate mi passi il termine e più andava bene perché si arricchiva la risoluzione questa è una risoluzione molto sterile molto sterile però sicuramente io la ritengo perché purtroppo mi dispiace che l'ha presentata che qui non vedo vedo la firma perché evidentemente è passata in commissione hanno copiato una risoluzione che viene dal settimo dal settimo ex settimo risoluzione su via di tene pure questa ma che è è tutta attaccata c'è un'altra cosa che avrei presentato te sicuramente perché tutte sono te noi siamo diventati peggio del ministro degli esteri allora voglio dire sarebbe stato più logico più logico oggi in questo consiglio portare un atto forte un atto forte dove dove chiedevamo ad AMA che cosa sta succedendo e chiedevamo al nostro presidente di intervenire intervenire perché se io chiamo AMA gli dico che sta succedendo ma le discariche funzionano però non ci abbiamo i camion non ci abbiamo il camion per riposizionare il cassonetto perché se cade un cassonetto all'interno all'interno del compattatore Dio ce ne salvi sparisce il cassonetto per due mesi tre mesi quattro mesi perché perché abbiamo il cassonetto che deve essere posizionato ma non abbiamo il camion per riportarlo un camion solo che gira per tutta Roma allora è quello che è non farlo che incrementare il disagio e il degrado perché poi io sono sempre dell'idea qualcuno mi dice che attaccavo i manifesti sui secchioni ma non ero io ma dico sempre che il degrado porta e se noi continuiamo con questa situazione se noi continuiamo a fare queste risoluzioni pensando di essere i palatini i palatini del futuro dicendo raccogliamo mettiamoli dentro le scuole dentro i mercati dentro gli asili ma non andiamo a monte chi deve raccogliere chi deve raccogliere non funziona siamo da capo a 12 stiamo perdendo tempo all'interno di questo consiglio grazie grazie io volevo dire semplicemente che queste macchine che raccolgono la plastica e danno un cambio buoni economici sono macchine private di ditte private che poi provvedono alla raccolta oltre che all'erogazione dei buoni e i supermercati se ne dotano già privatamente non è che hanno bisogno di un'intercessione del comune mentre metterle anche nei mercati forse nelle scuole mi sembra un po' difficile perché sono anche piuttosto grandi almeno quella che ho visto io potrebbe essere intanto un incentivo anche a frequentare i mercati ma una cosa buona perché se si butta la plastica nel cassonetto si butta e basta metterle in questi compattatori ed avere in cambio un buono sconto può essere utile e poi le ditte private provvedono alla raccolta e al riciclaggio del materiale plastico con cui si fanno tante cose per esempio la parte interna dei dettucci delle macchine è fatta con le bottiglie di plastica riciclate ci sono fabbriche che provvedono a questo quindi non mi sembra che ci sia un problema a votare questa risoluzione i supermercati se lo vogliono fare lo possono fare tranquillamente mentre è chiaro che noi abbiamo un grosso problema in questo municipio di un eccesso di accentramento di deleghe nelle mani della Presidente perché è chiaro che nessuno è Dio sceso in terra e quindi nessuno riesce veramente poi a controllare le cose su Lama in questo municipio sicuramente avremmo bisogno di un maggiore controllo sia politico che amministrativo anche perché Lama ha subito nel corso di questi ultimi sette anni direi sette anni un'entrata di massa di gente che magari non ha nessun interesse a farla funzionare Lama grazie grazie allora non c'è nessun altro intervento passiamo alla dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione allora chi è favorevole ci sono andato un troffolo aspetta aspetta madrono no madrano no la notte sì chi è contrario un contrario chi si astiene Giuliano Giuliano si astiene 15 voti a favore 2 contrari e l'astenzione del consigliere Giuliano quindi l'atto è approvato passiamo quarto punto l'ordine del giorno proposta di risoluzione avente ad oggetto via fitene faccio presente che l'atto che è stato inviato diciamo è l'atto originale che poi è stato modificato dalla diciamo in commissione e l'atto modificato è a disposizione e sono stati presentati su questo atto tre emendamenti sono stati fotocopiati quindi sono in visione quindi facciamo la discussione e poi andiamo a esaminare i tre emendamenti allora facciamo la presentazione dell'atto che è presente la commissione Paoli prego grazie presidente colleghi consiglieri anche questo atto è stato esaminato ed elaborato dalla commissione su proposta della collega Lancia che ha depositato all'ufficio consiglio la propria proposta che affronta e cerca voglio dire di porre dei rimedi sulla problematica in sorta via fitene la commissione ha effettuato diverse riunioni su questo argomento e concordemente alla presentatrice quindi la collega Lancia abbiamo chiesto anche una proroga per l'espressione di parere che andasse un pochino più dei dieci giorni e ritengo che questa sia stata una scelta opportuna perché la commissione si è anche recata sul posto per verificare deviso quello che si sta verificando in via fitene io come per i colleghi della lista civica farò una brevissima presentazione per consentire alla proponente di poterla esporre in maniera più esaustiva e posso dire che gli ammendamenti che sono stati presentati ovviamente confirmati Presidente di commissione e proponente della risoluzione vanno a sanare una fra fraintendimento una piccola impasse che c'è stato nella trasmissione degli atti per cui il testo della risoluzione che è stato inviato ai colleghi all'atto della convocazione del Consiglio come ha ben detto il Presidente è la proposta originaria il testo che credo sia disponibile perché l'ho visto si distanzia rispetto alla formulazione originale perché abbiamo udito anche gli uffici del nostro municipio l'architetto Cocchia in particolare che è stato presente con noi in tutte le riunioni purtroppo non c'è stato possibile perfezionare un incontro con il Dipartimento Pau perché in quella seduta è mancato il nostro numero legale per cui non lo abbiamo potuto poi non c'è stata più la possibilità di interlocuzione con il Dipartimento concludo brevemente per dire che la risoluzione così come elaborata dalla Commissione e la Consigliera Lancia ha partecipato con noi a tutti i lavori dà un contributo significativo al Dipartimento Programmazione e Attenzione Urbanistica perché nel corso dei lavori abbiamo acquisito dai cittadini una relazione tecnica di parte e un elaborato che costituisce un monitoraggio strutturale che è stato effettuato per la verifica della stabilità dei fabbricati attraverso un sistema digitale di livellazione per cui sono elementi di valutazione che riportiamo al Dipartimento per il proseguo delle attività della ditta ovviamente i cittadini sono estremamente preoccupati noi abbiamo verificato il posizionamento del cantiere è piuttosto infelice su una strada strettissima privata aperta a pubblico transito ma insomma con numerevoli problemi peraltro la conformazione strutturale degli edifici esistenti non è in cemento armato per cui sono vecchie costruzioni e gli interventi così invasivi che vanno su tutto suolo possono creare dei problemi per cui i cittadini hanno chiesto alla commissione la proponenza se ne è fatta carico e insomma ringraziamo per questo che il municipio faccia sentire la propria voce e che esprima il suo parere ritengo che lo facciamo nella maniera più intelligente possibile trasmettendo al dipartimento queste relazioni che ci sono state consegnate che noi abbiamo acquisito agli atti richiedendo peraltro anche l'intervento del genio civile per quanto riguarda la stabilità e l'assetto urbanistico dell'intervento che viene a realizzarsi ritengo di aver chiarito presentato insomma adeguatamente le cose poi per gli emendamenti Presidente li illustrerò successivamente a questo dibattito grazie grazie a lei apriamo la discussione chi vuole intervenire ci sono interventi consigliere Lancia prego allora il palazzo che stanno costruendo in via Fidene che è il primo dei due che devono essere costruiti ha avuto un'autorizzazione a costruire nonostante il parere negativo del municipio e dei vigili urbani e della polizia locale il municipio ha dato parere negativo e ha chiesto anche una valutazione di impatto ambientale perché i due palazzi devono essere costruiti al posto di piccoli manufatti che c'erano prima due piccole abitazioni a un piano e una rimessa per auto ed è incluso in un punto racchiuso fra palazzi ci si arriva attraverso una strada lunga 100 metri e larga 4 privata anche se aperta al pubblico transito i palazzi vicini a pochi metri addirittura la gru è stata piantata a un metro dal numero 25 sono palazzi dei primi del novecento quindi hanno le fondamenta fatte in un certo modo in particolare il numero 25 ha delle criticità pregresse questi due palazzi quello che stanno costruendo è il numero 30 che è alla fine della strada verrà a pochissimi metri da questi due palazzi il problema dei cittadini è sia sul cantiere che fa tremare i palazzi e crea molto disagio rumore polvere e quant'altro ma soprattutto che negli ultimi quattro mesi ha fatto scendere uno dei due palazzi il 25 di 5 millimetri per fortuna è sceso in piatto e non in modo diversificato però questo preoccupa molto chi abita lì i camion i macchinari pesanti devono passare su questa stradina e i cittadini devo dire la verità sono anche stati un po' maltrattati dalla ditta quando lasciavano la macchina nella loro strada privata in socia o quando si soffermavano a lungo senza liberare il passo a questi camion che ci passano appena appena in quella strada non è che ci quindi la preoccupazione è notevole e soprattutto io volevo segnalare al dipartimento PAO che non si possono rilasciare i permessi a costruire valutando solo il progetto ma che il progetto deve essere contestualizzato nell'ambito in cui viene fabbricato e che forse è anche il caso di smetterla di considerare che Roma storica finisce alle mura aureliane perché Roma oltre alle mura aureliane c'è tutta una città consolidata costruita ai primi anni del novecento o poco dopo che non può essere ignorata non può essere considerata come terreno vergine bisogna che il dipartimento cominci a rispettare i pareri che arrivano dai municipi il nostro municipio ha anche chiesto che non venisse concessa la monetizzazione perché non ci sono gli standard urbanistici perché non ci sono i parcheggi perché non c'è il verde perché non c'è lo spazio per costruire le cose eppure il palazzo ha avuto la monetizzazione esattamente come il centro a Pio Primo dove ci siamo venduti per 28 mila euro di monetizzazione una quantità di parcheggi che non sono sufficienti quindi noi chiediamo in questa risoluzione non solo di verificare l'assetto idrogeologico e l'effettiva possibilità di costruire il palazzo in quella situazione ma chiediamo anche di smetterla di dare permessi a costruire quando i pareri del municipio che conosce il territorio sono negativi quando i pareri della polizia locale sono negativi quando le cose non possono essere fatte in sicurezza tra l'altro in quella zona l'assetto idrogeologico è molto delicato perché tutta l'area di San Giovanni si posa sull'acqua i palazzi costruiti negli anni 50 sono su palificate di centinaia di pali con delle zattere appoggiate sopra quindi qualunque cosa si muove crea problemi al sottosuolo anche la metro San Giovanni funziona solo perché esistono quattro pompe idrovore che funzionano 24 ore al giorno altrimenti sarebbe completamente allagata la conferenza dei servizi per la costruzione della metro in via Sannio prescriveva di monitorare non solo i palazzi su via Sannio ma anche i palazzi all'interno proprio perché l'assetto idrogeologico dell'area è delicato lì passa il fosso dell'acqua mariana lì sotto è tutta acqua appena scavi quindi l'acqua poi una volta che uno ha calato il cemento non si sa dove va a finire non si sa quali possono essere i danni da qui a 5 o 10 anni quindi il dipartimento non ha fatto nessun accertamento non è stato sul territorio ha concesso l'autorizzazione solo sul progetto cartaceo del palazzo intanto che è un palazzo stretto stretto e non si sa neanche dove poi si possa allacciare la sua fognatura non si sa incrocia dei sottoservizi e interferisce anche con le fondazioni di uno dei palazzi quindi non diciamo di non concedere il permesso perché non lo possiamo dire chiediamo al dipartimento e al genio civile di fare tutte le verifiche del caso perché le cose possano essere fatte in sicurezza se possono essere fatte in sicurezza e magari prima di concedere il permesso a costruire per il nuovo palazzo che prevede ben tre piani di parcheggio sotterraneo quindi muovendo una quantità di terra non indifferente vorremmo avere tutti questi accertamenti grazie grazie a lei consigliera Lancia consigliere Giuliano prego grazie presidente buongiorno colleghi consiglieri allora il caso di via Fidene dal punto di vista urbanistico è un diciamo è un caso emblematico anche se piccolo quindi anche se inserito nel tessuto di città consolidata però rende molto bene quali problematiche emergono nel momento in cui il percorso procedurale dell'amministrazione sia ovviamente municipale che comunale creano quindi una serie di difficoltà quando questo percorso non viene seguito passo passo dico questo perché poi c'è chi in funzione di questa confusione ne trae i suoi vantaggi vantaggi che poi adesso saranno pochi metri quadri ma se lo amplifichiamo in altre zone di Roma oppure nello stesso nord del nostro municipio ci rendiamo conto che poi escono centinaia e migliaia di meri cubi e non sappiamo mai se le cose vengono seguite bene e se seguite bene anche quando vengono seguite e come vengono seguite cioè quindi anche i tempi questa è la confusione che regna su Roma dal punto di vista baristico ma non solo da oggi regna da diversi anni per cui c'è chi ha la fortuna di prendere un permesso a costruire in quattro mesi e chi invece ce ne mette dodici quando poi la norma prevede 180 giorni ma questo lo dico così a chiarezza perché poi dici ma che cosa cambia permesso da tutti no un conto da un permesso a costruire in quattro mesi un conto dallo in un anno ok e questa per esempio è la realtà di un permesso a costruire che si è avuto in circa cinque mesi e quindi dici ma se è stato così veloce è tutto a posto se è stato così veloce significa che le procedure non sono state tutte eseguite se è stato così veloce significa che le parti istituzionali il municipio e il comune hanno dialogato hanno comunque si sono comunque confrontate hanno comunque fatto delle verifiche e invece poi tramite segnalazioni di cittadini veniamo a capire che questo non è avvenuto perché perché il nostro municipio anche se è considerato in subordine l'istituto la istituzione municipale cioè che non conta nulla ma comunque è uno di quei casi dove fino a prova contraria mi sembra di aver capito chi è intervenuto ha studiato ha scritto ha comunicato però è come se non fosse stato fatto nulla perché il dipartimento ha detto a me non me ne può fregare di meno quello di scrivere il municipio io vado avanti basta da mia e quindi poi nascono queste incomprensioni incomprensioni che poi vengono supportate da una relazione tecnica di parte perché giustamente oggi la gente noi continuiamo a pensare continuiamo a pensare che chi ci ascolta chi ci segue non 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 capisca oggi è cambiato oggi con i mezzi che ci sono di comunicazione anche tramite internet online la gente è più preparata di quanto pensiamo e quindi dice al di là di questo io faccio fare una relazione dopodiché mi rivolgo all'amministrazione perché comunque lo devo fare perché mi deve tutelare ma tanto mi metto mi copro con una relazione di parte che comunque è stata fatta ad hoc fino poi a essere smentita e quindi questo è stato depositato e si evince che c'è un problema si evince che ci potrebbe essere un problema però al di là dell'aspetto tecnico che comunque noi fino a un certo punto possiamo arrivare ieri sentivo che ci sono stavamo nel consiglio diciamo di Ciampino per altre cose sentivo che parlavano architetti consiglieri capito proferendo parola però voglio dire poi alla fine bisogna anche sapere quello che si dice non è il caso ovviamente del collega qui ma di quell'altro collega che parlava perché ha fatto un bel discorso però alla fine non ha proposto niente di che noi dobbiamo fare un discorso diciamo politico quindi dobbiamo interessarci di quello che può succedere allora bene ha detto bene la consiglia gli standard urbanistici finito per noi esiste un standard urbanistico che deve essere rispettato perché qualunque progetto viene portato all'amministrazione comunale deve rispettare i standard se no non ti danno le autorizzazioni e non si può pensare che io te lo monetizzo perché così bypasso il meccanismo mica stai aprire un'attività commerciale capito un negozietto da parrucchiere che dice non c'è se parcheggi monetizzi 3.000 euro e hai risorto no questo serve solo per fare cassa perché ovviamente i parcheggi sono quelli che so se uno apri su via Magna Grecia in attività i parcheggi sono sempre quelli monetizzi però poi alla fine danno l'autorizzazione basta parlare di un negozietto di 30 50 80 qui stai a parlare di una palazzina e non puoi monetizzare una palazzina perché poi mi dici il carico quella strada non è a norma è privata benissimo ma non è a norma nel senso che non ha un'ampiezza di sede stradale a norma ok quindi il carico poi di impatto che i mezzi passeranno avanti e dietro per non so quanto tempo voglio dire quindi non sappiamo neanche se poi li sistemano in tutto chi dovere e per di più ci dicono che accanto dove potrebbero essere risolti i problemi degli standi urbanistici perché lì potresti fare un qualcosa diciamo di parcheggio di verde di piazzetta allarghi la strada fai quello che te pare come si dice a Roma no chiedono un'altra concessione allora come si dice ce fai ce sei proprio non te ne può fregare di meno di quello che è previsto di quello che comunque potrebbe creare il problema a dismisura no c'è troppo quella roba che va in fondo che vengono l'ansia a vederla poi insisti invece di dire no beh già troppo insomma regoliamoci cerchiamo di sistemare allora mi sento di dire che finalmente il municipio nonostante la sua la sua difficoltà nel dialogare con l'amministrazione insomma ha fatto il suo lavoro anche a suo tempo per cui di questo ne sono contento perché comunque gli uffici fanno il loro lavoro con i mezzi e con le disponibilità che hanno e di questo ne sono contento e quindi non è che ci sta qualcosa di confuso la confusione c'è là il dipartimento e a volte c'è là pure ovviamente la confusione c'è là perché ce la deve avere ok diciamo così quindi non si capisce perché c'è confusione se le carte parlano chiare se le carte parlano chiare quando porti il progetto viene visisezionato da tutte le parti poi qualcuno neanche capito dice neanche se preoccupa che devi fare tre piani sotto e c'è due calazzi attaccati una relazione geologica voglio dire no a guarderai con un po' più attenzione però quindi io sono perfettamente d'accordo non so chiedo solo al presidente della commissione non so perché ho preso questa e i tre emendamenti se già sono stati inseriti o quindi questi l'unica cosa se ho capito al terzo punto in attesa dei sopralluoghi e della verifica siano sospesi i lavori della ditta famiglia 3 e l'emendamento dice di togliere questo non possiamo chiedere di sospendere i lavori alla famiglia 482 no lo dico perché a me già mi dà fastidio questa cosa perché voglio dire forse non avremo la forza di far smettere i lavori ma certo che io scrivo poi chi di dovere dovrà dire se sì o no toglierlo me lasciava un po' perplesso e per il resto per il resto è importante appunto anche il il quinto punto dove il riprimento dei standard noi dobbiamo battere su questo dobbiamo battere su questo su capire quale sono gli interventi che faranno con gli oneri che svilupperanno il progetto Presidente ce l'abbiamo Presidente Polli ce l'abbiamo il progetto del con con varie con le opere pubbliche che fanno quindi interventi ok e quindi dare il nostro contributo in questo senso perché da questa posizione non possiamo derimere cioè non possiamo far finta di nulla cioè da questo punto di vista non possiamo stare fermi quindi sono contento di questa posizione di questo mi auguro a unanimità di questo consiglio perché dalle cose alle grandi alle cose piccole ma sono cose piccole che fanno spesso e volentieri la differenza in un contesto più grande e quindi questo è anche un sinonimo di attenzione di dignità anche di pochi grazie grazie consigliere Giuliano altri interventi consigliere Ciancio prego grazie presidente grazie consiglieri grazie alla commissione che sta lavorando su questo increscioso problema è un momento delicato importante perché bisogna avere fermezza in uno strumento urbanistico che dia chiarezza per tutti sia per i municipi sia per i dipartimenti le norme tecniche devono essere lette allo stesso modo sia da un ente periferico dice bene il consigliere che mi ha preceduto sia dal sia dal dal municipio sia dal dipartimento proprio in questo momento mentre noi stiamo trattando l'argomento si stanno operando dei lavori che secondo me compromettono la stabilità degli edifici circostanti spesso l'imprenditore pensa di poter fare tutto attraverso uno strumento che è una SRL con 10.000 euro di capitale l'assunzione di responsabilità deve essere piena se ci sono danni per eventuali terzi io non posso pensare che un palazzo di 6 piani a ridosso di un'autorimessa che si vogliono fare 3 piani interrati ahimè o fanno i pali prima io non so quale tipologia si può fare tutto oggi naturalmente però ci sono dei costi e ci devono essere anche delle garanzie quindi noi come municipio giustamente come commissione che ha lavorato oculatamente rispetto a questo problema perché non possiamo scavallare la legge cioè i diritti di un proprietario che dice di essere proprietario sino al centro della terra e sino alla luna rispetto al suo impianto planimetrico una limitazione da parte degli strumenti e degli organismi competenti ci deve essere anche sotto l'aspetto tecnico proprio per questo abbiamo chiesto nella stessa risoluzione che l'organismo competente cioè il genio civile non vada ad estrazione e magari questo progetto sfortunatamente non lo guarda prima ma che lo guardi attentamente in tutti gli elaborati partendo dalla relazione geologica ai sondaggi se sono stati fatti che tipo di fondazione useranno perché in presenza del terzo fiume di Roma cioè la Marrana quella che attraversava le mura aureliana e che sta lì sotto ci deve essere un'attenzione particolare per questo per questo intervento naturalmente sono stati tanti i casi di disattenzione da parte anche di enti che facevano lavori pubblici hanno fatto gli testimoniali di Stato e hanno negato l'evidenza dopo su Via La Spezia su Via Appia ci sono stati palazzi crepati per lavori fatti dagli enti pubblici e i problemi c'erano anche se all'inizio dicevano non c'è nulla di strano mi riferisco al Pozzo N su Via Appia si possono fare i lavori bene i privati cittadini raccontavano a tutti lì c'era una cava e sono le tombe le antiche tombe in fase di scavo hanno trovato quella roba e quindi poi c'è stato un cantiere che è rimasto anni e anni appeso a queste problematiche quindi io invito a un accertamento puntuale l'approvazione di questa risoluzione pone dei paletti giustissimi e condivisibili e quindi dovremmo dare forza intanto al municipio che ha dato con grande rigidità dei pareri importanti dicendo ci sono delle problematiche sugli standard è ovvio qualsiasi palazzo qualsiasi attività commerciale che non può l'articolo 6 del PRG le norme tecniche monetizzare vuol dire che mi restituisci dei soldi ma lì nel quadrante dove servono i parcheggi non potranno mai essere realizzati questo procedimento io non so quanto possa regnare più in una città consolidata dove alcune attività commerciali abbiamo l'esempio sull'appi hanno monetizzato ma poi non ci sono di fatto dei soldi il cittadino sa che farsene o se realizzeranno i parcheggi in un'altra zona è lì che servono i parcheggi è lì che servono i servizi l'aspetto strutturale dei palazzi di Mitrofi è veramente paradossale edifici in muratura tuffo e mattoni hanno sicuramente problematiche fortissime con il movimento delle acque perché se le acque sotterranee cominciano a camminare in altra direzione rispetto a quella attuale provocheranno sicuramente danni io chiederei anche e se possiamo aggiungerlo di chiedere i testimoniali di Stato prima ne avevamo parlato nella riunione di sopralluogo quindi che l'entità che sta portando avanti questo progetto provvedesse a fare tutti i testimoniali di Stato in contraddittorio vuol dire con i proprietari e con un tecnico di fiducia o dell'amministrazione o dei condomini in cui visiona prima gli appartamenti come sono se hanno delle crepe perché alla prima crepa è ovvio che qualcuno dovrà assumersi delle responsabilità quindi un'assunzione piena della responsabilità da parte di chi esegue i lavori grazie grazie a lei consigliera Lenci grazie presidente ma quando noi abbiamo ascoltato i cittadini di questa situazione di via fidene francamente sono rimasta perplessa perché sembrava una storia di fantascienza io credo che come ho detto anche ieri nella riunione che abbiamo fatto nel cuneo di Ciampino che l'urbanistica debba cambiare abbiamo sul territorio degli scempi che ci dovrebbero far vedere solo quelli per farci riflettere quindi è inutile che noi andiamo a creare un altro altri cioè dovremmo avere già una forma di conoscenza poi logicamente quando vado a leggere che addirittura noi chiediamo di effettuare dei controlli per quanto riguarda la staticità il problema delle palazzine limitrofe cioè non è possibile che qualcuno che ha una responsabilità abbia dato un permesso a costruire senza avere questi dati io stamattina sarò ripetitiva mi dispiace che non c'è la presidente Fantino che la tele che all'urbanistica però vorrei sapere visto che il nostro municipio si era già espresso in gli uffici del nostro municipio si erano già espressi in maniera contraria vorrei sapere perché non abbiamo degli strumenti o comunque cercare degli strumenti con i dipartimenti per fare qualcosa perché altrimenti io sono contenta e favorevole di questo atto però vorrei poter consegnare ai cittadini qualcosa di reale cioè siamo sempre a rincorrere facciamo una cosa gli altri già hanno provato non è più possibile dobbiamo trovare degli strumenti idonei perché altrimenti così facciamo carta che sicuramente è importante però dobbiamo dare un seguito dobbiamo dare delle risposte ai cittadini adesso bisogna fare dei controlli su una cosa che già è stato dato un permesso per me scusatemi ma dobbiamo veramente cambiare sistema e l'abbiamo visto quando abbiamo fatto gli scavi in metro C che le case abbiamo fatte quasi grollare abbiamo ricreato dei problemi alle scuole ancora continuiamo ad andare avanti con questo sistema io spero che più avanti innanzitutto cominceremo ad avere i dipartimenti che diano delle risposte serie e concrete soprattutto che ci siano questi dipartimenti e poi che anche il nostro municipio laddove può prendersi fare delle soluzioni più pesanti più forti non è possibile solamente fare degli atti di consiglio voglio vedere che quello che viene deciso qui dentro poi abbia un seguito sul territorio altrimenti è tempo perso per noi e per i cittadini grazie grazie consigliere venci non ci sono altri interventi quindi passiamo agli emendamenti allora ripeto abbiamo tre emendamenti uno soppressivo e due aggiuntivi facciamo un'unica presentazione un'unica discussione e poi li votiamo separatamente prego consigliere grazie presidente e bene due emendamenti quelli aggiuntivi in realtà sono più per un coordinamento formale del testo e per poter aggiungere nella risoluzione che auspico venga approvata a breve sia la relazione di parte che abbiamo acquisito durante i lavori della commissione ma anche il documento di monitoraggio strutturale che abbiamo acquisito che fa riferimento ad una verifica fatta sempre su via Fidene non c'è adesso il collega Giuliano che mi chiedeva le motivazioni per le quali abbiamo cofirmato io e la collega Lancia l'espulsione del punto numero 3 dopo la riformulazione dell'atto della commissione a parte che ci siamo confrontati ma io ho sentito anche l'architetto Cocchia con il quale insomma abbiamo fatto questa considerazione che già i primi due punti il numero 1 e il numero 2 sono voglio dire dal punto di vista procedurale estremamente calzanti pungenti e vanno a sviscerare nella maniera più totale le anomalie che potrebbero essere insorte durante l'itere di concessione del permesso a costruire mi chiedeva quindi interrogava a me e quindi questa cosa mi ha fatto pensare per quale motivo dovesse essere il consiglio del municipio a chiedere la sospensione quando la sospensione è dell'organismo che ha rilasciato il permesso a costruire quasi a dare noi un alibi per eventuali contenziosi dovessero nascere con la ditta che ha la convenzione firmata e permesso a costruire in mano quindi mi sentirei di suggerirlo ai colleghi in forma cautelativa perché comunque i primi due punti sono centrali per l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere ovvero che il dipartimento effettua quei sopralluoghi tecnici e il genio civile effetti quei sopralluoghi necessari per la prosecuzione dei lavori disaminando voglio dire facendo una piccola divagazione sulla questione urbanistica è chiaro che se andiamo a parlare in termini generali qui stiamo parlando di trasformazione urbana cioè dove c'era una piccola cantina un edificio insomma di lieve entità magari anche di se stato si viene a rigenerare e a trasformare il territorio quindi senza consumo di suolo ma questo però non significa che le cose debbano essere fatte con superficialità per cui gli emendamenti sono ripeto quello soppressivo è una forma diciamo di cautela verso i consiglieri che andranno a votare un atto che non è una mozione ma una risoluzione quindi con questo atto noi entriamo come dice come ama dire il consigliere Giuliano a gamba tesa su un procedimento ma la ditta ha già diritti quindi il dipartimento ha già dato tutto è il il risultato che noi lo spieghiamo è che sia proprio la sospensione dei lavori perché il dipartimento e il genio debbono effettuare quelle verifiche che noi stiamo chiudendo con forza quelli aggiuntivi invece come dicevo prima sono solamente di coordinamento formale quindi per inserire nel testo sia la relazione tecnica che il monitoraggio che ci sono stati presentati e che abbiamo acquisito grazie grazie a lei allora apriamo la discussione facciamo un'unica discussione su tutti e tre gli ammendamenti faccio presente che si può intervenire uno per gruppo prego consigliere Giuliano grazie presidente quindi intervengo su tutti e tre ok allora fermo restando gli altri due che sono ovvi la mia perplessità sul punto diciamo sull'emendamento soppressivo era solo il fatto perché leggendo ovviamente la risoluzione che noi impegniamo quindi il nostro presidente e l'assessore competente verso il sindaco quindi non è che diciamo che siamo noi che facciamo l'operazione di chiusura o di negazione sollecitiamo e questo io penso che sia il concetto dobbiamo sollecitare anche l'eventuale blocco del cantiere di fronte alle inadempienze cioè è una richiesta quella che facciamo noi perché non abbiamo come dice giustamente il presidente Poli non è che abbiamo in mano lo strumento per poter fare questo ma siccome stiamo facendo una risoluzione e chiediamo con forza alcune cose non mi sembra strano poter mettere anche la richiesta ovviamente di sospensione di lavori nel momento in cui c'è qualcosa che non quadra cioè io lo prevederei come ragionamento toglierlo capivo che c'era dietro un discorso di uffici ma non è l'ufficio del municipio che si prende la responsabilità perché anche se volesse prendersi la responsabilità non lo può fare perché l'autorizzazione è stata data dal dipartimento per cui però chiedere gli standard la relazione tecnica di parte diciamo la conformità del cantiere eccetera eccetera e l'eventuale sospensione in presenza di gravi come si dice accertamenti diciamo amministrativi è normale che questo lo possiamo chiedere io da questo punto di vista l'ho capito che se vi è ragionato in questo senso non andiamo a dare un problema a chi di dovere cioè agli uffici perché comunque sono sempre in subordine i nostri uffici hanno fatto una reazione non l'hanno presa in considerazione voglio dire hanno dato delle prescrizioni non l'hanno presa in considerazione allora pure lì dovremmo dire se tanto vale che io ti dico che quel cantiere deve essere chiuso perché non è regola allora tu al suo tempo mi devi prendere in considerazione tutta l'osservazione che ti ho fatto perché per quello vale questo riflettiamoci un attimo colleghi perché vuol dire stiamo chiedendo delle cose in questa risoluzione e quindi il nostro presidente si deve relazionare con chi di dovere col sindaco l'assessore competente comunale per dire quello quello e quello e l'eventuale verifica se fermare il cantiere in presenza di inadempimenti sono delle richieste quindi io se serve che facciamo un attimo un confronto su questo soppressivo facciamolo anche con gli uffici chiamiamo gli uffici quello che vi pare però io da quanto ho capito è una richiesta che facciamo noi cioè non è che noi possiamo decidere per l'amministrazione noi vogliamo mettere in condizione l'amministrazione di avere un occhio più chiaro più preciso e più limpido su questa procedura grazie grazie consigliere Giuliano consigliere Renci prego grazie presidente anche io sugli altri due sui altri due emettamenti non ho niente da eccepire sono un po' preoccupata per quanto riguarda di questo soppressivo perché in effetti cerchiamo sempre di trovare una soluzione per tutela dei cittadini perché se lì poi nasce un contenzioso dei problemi legali eccetera lì rimarrà una buca a vent'anni e non se ne riuscirà più fuori allora prima di fare uno sbaglio cerchiamo di ragionare bene di cosa fare quindi magari se vogliamo possiamo o sopprimolo se pensiamo che sia la cosa migliore per i cittadini oppure trovare una formula che non sia magari ascoltiamo anche gli uffici per avere un parere tecnico di questo perché non vorrei poi che per aiutare i cittadini facciamo peggio grazie consigliere Lancia prego sì io chiedo 10 minuti di sospensione e la la convocazione del direttore o del dirigente dell'ufficio tecnico o chi per lui per valutare perché io personalmente diciamo l'avevo inserito nella risoluzione perché mi sembra chiaro che se fino a che uno non è certo che i lavori si possano fare i lavori vadano sospesi però è anche vero che dalla mia esperienza di questi ultimi 7-8 anni le ditte costruttrici che sono sempre assistite da ottimi avvocati hanno contenziosi enormi e non gli costa niente poi chiedere i danni anche agli abitanti ai residenti e anche ai consiglieri e agli uffici tecnici tra l'altro sono ditte con 10.000 euro di capitale che alle brutte falliscono cambiano nome se si ripresentano con un altro nome e continuano tranquillamente le loro attività quindi se vogliamo un attimo sospendere e fare una riunione di capigruppo magari ascoltando gli uffici grazie allora c'è questa richiesta della consigliera Lancia di sospendere quarto d'ora il consiglio per chiarirsi per approfondire diciamo l'eventamento soprattutto l'eventamento soppressivo e chiamiamo gli uffici io se non ci sono diciamo osservazioni su questa richiesta sospenderei il consiglio per 15 minuti va bene d'accordo consiglio sospeso allora diciamo sua indicazione dell'architetto Silvestri si ritiene opportuno diciamo mantenere l'eventamento soppressivo del punto 3 del risolve quindi non so se i firmatari i presidenti della commissione prego presidente la commissione si velocemente presidente grazie le perplessità che ci sono state confermate dall'architetto Silvestri sono in linea con quelle che ci aveva già detto l'architetto Cocchio durante i nostri lavori sopprimendo quel punto non aggiungiamo non togliamo nulla sull'incisività dell'atto sfuggiamo da ogni tipo di fraintendimento successivo che possa coinvolgere chi ha presentato le perizie di parte perché noi chiediamo una verifica e ovviamente sarà in mia cura insomma insieme a consigliere la lancia di fare in modo che l'atto venga sollicitamente inviato all'assessore cauto affinché partano le verifiche che stiamo chiedendo quindi ripeto il punto numero 3 non toglie nulla sull'incisività perché i primi due punti sono estremamente esaustivi e centrali rispetto al problema che abbiamo posto in evidenza con l'atto stavamo ancora nella fase di discussione degli emendamenti è venuto il consigliere Giuliano abbiamo sospeso un attimo il consiglio ci siamo chiariti e continuiamo la discussione sugli emendamenti bene un'unica discussione su tutti e tre gli emendamenti allora ci sono altri interventi sugli emendamenti non ci sono ho aperto dopo prima vabbè allora aspettiamo che hai detto 15 minuti sospendo consigliere si sospendo in atto vabbè sospendo 5 minuti il consiglio poi riapriamo consiglio sospendo riaprire il consiglio allora ripeto non mi sembrava che ci fossero ancora richieste di interventi sugli emendamenti passiamo alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti uno per uno allora emendamento numero uno ci sono dichiarazioni di voto no consigliere Giuliano quello soppressivo no quello soppressivo allora io voglio dire non avrei preferito che ci fosse che fosse che fosse inserito il punto però m'adeguo m'adeguo alla richiesta degli uffici non essendo tecnico e avendo un altro tipo di ruolo mi rendo conto che probabilmente non so che cosa può portare questo sarebbe stato positivo lasciarlo o modificarlo per far capire che comunque questo municipio chiede con forza oltre a tutto quello che c'è chiedeva anche eventualmente in caso di inadempienze una verifica della sospensione dei lavori però poi la relazione come dice il presidente è ben descritta è ben argomentata e quindi dovranno prendere in considerazione quello non voglio fare la parte di quello che deve stare a fare a spaccare il capello anche perché non ce l'ho quindi comunque sia va bene così siamo in due e allora ci sono altre dichiarazioni di voto consigliera Lanci prego grazie presidente no anch'io come diceva il consigliere Giuliano avrei preferito magari modificarlo però come ho detto prima insomma cerchiamo di trovare la soluzione migliore per i cittadini l'unica cosa che mi voglio augurare è che il dipartimento effettui dei sopralluoghi in maniera molto veloce e poi dopo deciderà se sarà il caso di fermare questi lavori grazie non mi sembra che ce ne siano altre richieste allora mettiamo in votazione l'elementamento numero 1 quello soppressivo che sopprime il punto 3 del risolve allora chi è favorevole all'elementamento soppressivo chi è contrario Nessuno che si astiene? Nessuno. Quindi l'emendamento è soppressivo, è stato approvato con 21 voti a favore, nessun contrario, nessuna astenuta. Passiamo al numero 2, che è aggiuntivo. Ci sono dichiarazioni di voto su questo emendamento? No, passiamo la votazione. Chi è favorevole? C'è una controprova, chi è contrario? Nessuno, che si astiene? Nessuno. 21 voti a favore. Passiamo al numero 3. Allora, anche questo è aggiuntivo. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Quindi, 21 voti a favore, l'emendamento numero 3 è approvato. Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto sull'atto con gli emendamenti approvati, chiaramente. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, facciamo la controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi, l'atto è approvato con 21 voti favorevoli. Grazie. Consiglio è chiuso.